Sì, questa è una giornata molto importante, allora c'è un collegamento adriatico direi tra Slovenia e Italia, soprattutto Puglia, come voi sapete la Slovenia e Puglia sono collegate con l'Adriatico, ma ci conosciamo troppo poco, questo intenzio, vogliamo fare la conoscenza migliore tra i puliesi e sloveni, aumentare lo scambio economico tra Slovenia e Puglia e forse creare qualche posto di lavoro di più, ma soprattutto anche farci conoscere meglio tramite la presentazione culturale sia quella puliese in Slovenia sia quella slovenia in Puglia e ne ho piena fiducia che Avvocato Olivieri sarà in grado e capace di fare questa amicizia tra puliesi e italiani, puliesi e sloveni a metterla a un livello più alto di adesso. Quali sono gli obiettivi effettivamente della Puglia in questo senso? Oggi abbiamo raccolto il frutto di un lavoro durato due anni, Sua Eccellenza è stato qui varie volte, è riuscito a stabilire un rapporto anche di empatia con i pugliesi, con l'ex sindaco, attuale governatore Emiliano e un po' con tutta la classe produttiva della Puglia e Basilicata, i rapporti sono quelli che avete visto, di estrema cordialità ma di estrema fiducia di un miglioramento costante che potrà essere nei prossimi anni. Grazie.